Ciao ragazzi, oggi vi presento lo Shaila di Casa Valkane 1,8 grammi, sempre nella mia colorazione. Questo è uno spoon che ci consente anche di mantenere molto bene la fascia d'acqua. In questo caso soffia il vento alle nostre spalle, quindi il pesce ce l'abbiamo abbastanza lontano. È una mangiata abbastanza decisa, quindi in questo caso scelgo la Dyslate 61 WLH Black Vespine con un essere Torai 04 1,6 libre, perché? Perché la mangiata viene in superficie, è abbastanza decisa, quindi ho tutta la certezza di portare a guadino il pesce grazie all'azione più dolce e più morbida diciamo della WLH Black Vespine, che comunque ha un'ottima riserva di potenza nella parte centrale proprio del grezzo. Spalzano un'ottima rispetto di stagione per il regio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.